ben ritrovati di nuovo su review in you se cercate dei guanti da pesca o da caccia forse questi potrebbero essere i guanti che fanno al caso vostro andiamo a vederli insieme allora l'ho acquistati su amazon link in descrizione come sempre misure ml o xl io l'ho acquistati della taglia m la mia mano è più o meno di questa lunghezza adesso ve la faccio vedere anche in termini di centimetri come vedete dal mio dito medio fino a qua ci sono 18 cm circa e poi dalla parte palmare abbiamo all'incirca 8 8 e mezzo 9 quindi se anche voi avete questa dimensione potrebbero andarvi bene i guanti m li vado a indossare subito e vi dico innanzitutto che sono di materiale neoprene come vedete mimetico quindi veramente interessante per uno che va a caccia o a pesca adesso qua io c'è il mio smartwatch però comunque c'è la possibilità di chiusura con lo strappo in velcro vado a indossare anche l'altro stringo e qua la parte gommata che è utile per un grip sulla canna sul fucile o su quello con cui andate a lavorare tengono veramente molto caldo l'ho provati l'altro giorno tengono caldo e dovrebbero riparare diciamo dalle gocce d'acqua se emergete la mano comunque anche in virtù di queste fessure la mano si bagnerà però dalla brina dalla dall'acqua magari da un po di neve tengono comunque la parte interessante questa sulle falangi che si può retrarre questo modo che vi permetterà nel caso della pesca di avere magari il gioco sulla lenza con le dita o comunque nel caso del di premere il grilletto vi consentirà di usare quindi direttamente il vostro dito così senza protezione e quindi è utile soprattutto per questo motivo io l'ho presi per andare a pescare e devo dire che sono soddisfatto dell'acquisto anche per il prezzo veramente irrisorio siete interessati link in descrizione fatemi sapere cosa ne pensate